va bene fa niente ci sei stato chiudi tutto non 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 Ah 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 Dai 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 Ah 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 Dai 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 Via Bravo Anche questa non ti fermare eh Continuala Via via bravo Così No Non ti fermare continuala Vai Via Eh no Dai 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 stai vai chiodi 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 bravo si ricorda ancora qualcosa incredibile ho detto si ricorda ancora qualcosa ma non tutto no però fino a lì hai recuperato un casino di volte bravo